Ehi, ciao Franco! Ciao Germana! Tu che sei un maestro di ballo, potresti darmi un consiglio? Dove passare una bella serata, gustando del buon cibo, all'insegna del divertimento e della buona musica? Sicuramente Cape Beach, sul lago d'Endina. Vista lago? Assolutamente sì! Lo vedo l'ora, quando? 27 di aprile, tu balli? No, io canto, tu balli! Allora io canto e tu balli? No, io canto e tu balli! Ma forse sarebbe meglio, però magari proviamo a ballare e cantare insieme, che dici? Facciamo che mangiamo prima! Bella idea! Ci vediamo al Cape Beach! Ciao!